Sì, è lo sguardo di mio. Il turbo ha la voce all'edio quando usciva da fuori. Kit, presentati. Ciao Kit. Ciao amico, mi fa piacere sentire la tua voce. No. Presentati Kit. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Kit, se preferisci. Piacere di conoscerti. Grazie Kit. Lo faremo a vedere. Kit, potresti portarmi a ballare con Raul Bova? No, niente affatto. E perché no Kit? Vuoi scherzare? No, sono molto seria Kit. Sono solo una macchina, non faccio tirato. Portami a ballare Kit. Ma pure al mezzo. Puoi invitare Raul Bova a Kit? Non direi. Eh no Kit, non si fa così. Questa storia già non mi piace. Kit, ti voglio bene. Grazie, perché hai detto che è molto bello. Vai col turbo. Sono al massimo della potenza. A volte credo che tu non mi apprezzi abbastanza. Ti dispiacerebbe togliermi le mani di dosso? Sono senza parole. Ciao Kit.